Ciao ragazzi, è uscita da poco la nuova beta di Home Assistant e più precisamente la versione 5, quindi la versione di maggio, che porta e introduce grandi novità in ambito voce, quindi con Assistant il capitolo 2, per la precisione. Vi lascio qualche link poi per approfondire. Quindi in questa versione vedremo tutti i miglioramenti lato voce, un'aggiunta sui webhook e a che cosa servono, e in più c'è un'integrazione, soprattutto quella della Roborock, per gestire tutti i nostri robot molto interessanti. Ma ragazzi, non perdetevi tutto il dettaglio, soprattutto del capitolo voce. Bene, quindi possiamo iniziare. Allora, per prima cosa, come potete vedere, io ho già aggiornato all'ultima versione, quindi quella di maggio, in beta. Per quanto riguarda la parte di voce, quindi la parte di Assistant, introduce parecchie novità. Allora, prima di tutto, abbiamo un nuovo menu dedicato, che è Assistenti Vocali, da dove possiamo configurare il nostro Assist. Oltre, nel momento in cui avete anche la sottoscrizione a Nabucasa, potete anche configurare gli assistenti vocali, quali Google o Alexa. Un'altra cosa importante è che adesso possiamo decidere quali entità andare a esporre ai nostri assistenti vocali, direttamente su questo menu Esponi. Infatti, vediamo che in Assist, in questa istanza di prova, io ho già esposto tutte queste entità, e quindi sarà possibile controllarle, ovviamente, con la voce. Ma cosa dobbiamo fare prima di tutto? Allora, prima di tutto, è stato introdotto anche dei nuovi plug-in, e nello specifico, sempre ovviamente per utilizzo voce, e nello specifico vi faccio vedere quali. Se andate sotto Componenti aggiuntivi, troverete questo plug-in, che ho già scaricato, Whisper, che vi consiglio ovviamente di scaricare anche voi, e Piper, ok? Perché poi ci serviranno per darli in pasto come motori, ad esempio Whisper Speech-to-Text, piuttosto che Piper Text-to-Speech, per darli in pasto alla configurazione che stavamo vedendo prima. Quindi, lo scaricate, a livello di configurazione, ovviamente, andate a inserire il model, potete lasciare questo, andate a inserire, nel nostro caso, l'italiano, ok? Diamo una salvata, e a questo punto ci basterà avviarlo. Questo si appoggia poi su un'OpenAI, infatti, poi vi farò vedere anche come direttamente integrare il motore OpenAI con la key, direttamente in Home Assistant, quindi seguite tutti i passaggi. Allora, prima di tutto, abilitiamo questo, settiamo la lingua e facciamo clic su Avvia, ok? E a questo punto abbiamo attivato il nostro plug-in. Dopodiché, facciamo la stessa cosa per Piper, ok? Anche qua, in Configurazione, dobbiamo dirgli qual è la voce di riferimento. Anche qua, cerchiamo l'italiano. In questo caso, l'italiano c'è solo Riccardo, quindi mettiamo Riccardo. Abbiamo anche poi eventuali altre opzioni da andare a settare, ma io vi consiglio di lasciare per il momento tutto com'è. Diamo Salva, perché è già settato correttamente, e andiamo ad avviare poi anche Piper. Attenzione che sia in questo che nell'altro ci sia Esegue l'avvio e Watchdog, ok? Per controllare eventuali interruzioni impreviste, ok? Mettiamo anche in questo caso Watchdog. Fatto questo, dobbiamo andare ovviamente ad abilitarle in termini di integrazione. Quindi andiamo qua, qua ci sono N1000 componenti che mi ha rilevato, ma la cosa più importante sarà abilitare Whisper e Piper. Quindi cliccando su Configura e confermando banalmente con Invia. Stessa cosa per Piper, ok? Quindi abbiamo completato queste due cose importanti sotto il Wyoming Protocol, ok? Piper e Whisper. Una volta fatto questo, io vi consiglio già anche di includere l'integrazione di OpenAI, ok? Per integrare anche quella. Quindi OpenAI Conversation. A questo punto ci chiederà la chiave API. Come facciamo ad ottenere la chiave API? Allora dobbiamo andare ovviamente ad avere un account su OpenAI. Io ce l'ho già. Come vedete qua, sono già entrato nel mio account. E la cosa che dovete fare è assolutamente andare a settare una carta di credito, perché se no non vi permetterà di avere la key, ok? Quindi andiamo su Billing, Pined Method e andiamo ad aggiungere la nostra carta di credito. Quando lo aggiungeremo ci scalerà preventivamente circa 5 dollari, che poi intanto vi saranno restituiti. Ma la cosa importante è impostare i limiti. Io ad esempio ho impostato un limite di 10 dollari massimo di spesa e un avviso a 5 dollari, ok? Una volta fatto questo, ci basterà creare una nuova API key tramite Creenew Secret Key e mettiamo ad esempio HA per Home Assistant. Adesso lo andrò a creare e poi vi faccio, ovviamente andrà inserita qua dentro, in chiave API, ok? Una volta inserita la chiave API, ci ritroveremo OpenAI Conversation configurata. Possiamo anche qua andare in configura, ma tranquillamente lascerei selezionato tutto quanto, così com'è, e facciamo clic su Invia, ok? Così abbiamo configurato tutto quello che ci potrà servire sulla nuova parte di voce di Home Assistant. Ora, se andiamo a sfruttare il nuovo menu assistenti vocali, possiamo aggiungere un nuovo assistente che sarà integrato direttamente con tutti i componenti che avete visto adesso. Quindi lo chiameremo HA ITA, perché lo imposterò in italiano. Quindi la lingua ovviamente lasciamo in italiano. Come agente di conversazione, invece di mettere quello di Home Assistant, metto OpenAI, che è quello nuovo che abbiamo appena gestito. Il riconoscimento vocale metteremo Whisper, sempre in italiano, e come sintesi vocale Piper, sempre in italiano, con la voce di Riccardo. E andremo a questo punto a, volendo provare la voce, che sicuramente sarà una, non so se l'avete sentita, comunque sarà una voce migliore rispetto a quella di Google Speech, per intenderci. Stessa cosa, il riconoscimento vocale sarà un motore migliore. Quindi andiamo a crearlo. A questo punto, anche in questo caso, possiamo andargli a dire che questo è il nostro assistente preferito tramite la stellina qua in alto. Ok? Quindi facciamo Aggiorna. Questo qua lo lasciamo in Standby. Una volta fatto questo, possiamo ovviamente andare a decidere cosa esporre. in questo caso è tutto esposto, su assist, per esempio, e possiamo aggiungergli, ovviamente, gli alias. Quindi, ad esempio, presa cucina 0, che ovviamente chiamata così diventa difficile, gli aggiungiamo un alias e lo chiamiamo presa cucina. Ok? In questo modo abbiamo aggiunto il nostro alias. Infatti qua ci dà presa cucina. Quindi cosa succederà nel momento in cui noi andremo ad utilizzare Assistant, ad esempio tramite questa qua. Avremo selezionato Haita, quindi quello con il motore anche OpenAI, come ci segnala qua sotto. Accendi, presa, cucina. Ovviamente questo avrà maggior funzionalità nel momento in cui potremo usare direttamente la nostra voce invece che scriverlo come sto facendo io, ma il succo è esattamente quello. Poi vi farò vedere anche un gadget molto interessante per poter parlare in giro per casa spremendo semplicemente un bottone, mettendoselo alla bocca e dicendo quello che si vuole si andrà a utilizzare Assist. Ok? Poi anche lì, se vi interesserà approfondire questo argomento, me lo scrivete nei commenti in maniera tale che vado ad approfondirlo. Quindi sta cercando di accendere la presa della cucina. Ok? Dice che non è in grado di accenderla. Perché? Perché semplicemente io sto usando OpenAI. Ok? Se invece io passo in Home Assistant, quindi con l'assistente normale Home Assistant, e vado su accendi presa cucina, a questo punto me l'accende tranquillamente. Ok? Quindi da qua io potrò scegliere se parlare con OpenAI o meno. OpenAI, per esempio, qua possiamo chiedergli chi ha fondato Home Assistant? Ok? O qualsiasi domanda che normalmente voi poteste fare a OpenAI. Però ci avete tutto integrato in Home Assistant. Quindi questo è molto interessante. Soprattutto nel momento in cui mettete delle casse in giro per casa che vi daranno delle risposte, sfruttando appunto praticamente le integrazioni che abbiamo visto prima, quindi con voce abbastanza naturali. Ok? Quindi vi ho fatto vedere i progressi che stanno avendo su queste nuove versioni in Home Assistant la parte di voce. Questo vi ricordo che è solo uno dei capitoli, il capitolo 2. Ma andrà avanti. Comunque già così abbiamo un bel po' di potenzialità. soprattutto nel momento in cui decidiamo di andare a sfruttare Nabucasa e utilizzarlo anche tramite Alexa e quant'altro. Però vi assicuro che con l'aiuto di quel tastino che vi dicevo diventa veramente molto bello utilizzarlo, è molto funzionale. Quindi questo vi ho fatto vedere una panoramica della parte voce che è la parte più consistente in questa nuova release di Home Assistant. Adesso andiamo a vedere per esempio i webbook. Una cosa mi sono dimenticato prima di passare ai webbook vi volevo dire che a livello di assistente vocale prima per completezza dobbiamo anche andare a cambiare perché questo qua io vi ho fatto vedere che abbiamo messo sotto il riconoscimento vocale Fast Whisper e Sintesi vocale Piper ma sfruttando il motore di OpenAI ma la stessa cosa dobbiamo fare quando invece utilizziamo l'agente di conversazione Home Assistant quindi l'agente di conversazione Home Assistant è quello che ci permette poi di accendere la luce spegnerla eccetera eccetera quindi anche qua riconoscimento vocale mi raccomando andate a settare come abbiamo visto prima e ad aggiornare ok ora torniamo subito su webbook allora i webbook prima di tutto cosa sono? sono diciamo Home Assistant espone un indirizzo un URL che può essere richiamato da altre applicazioni tramite la barra degli indirizzi banalmente o cose un po' più complesse a livello di programmazione e permette poi di scatenare determinate automazioni una volta che viene chiamato quell'indirizzo quali sono le più importanti novità di questi webbook adesso ve lo faccio vedere proviamo a creare un'automazione ok quindi facciamo una nuova automazione senza usare ovviamente template e andiamo a vedere di scegliere webbook ok qua ci dà già l'ID del nostro webbook ok quindi come dobbiamo poi effettivamente chiamarlo la cosa importante è che adesso possiamo dirgli che questo webbook può funzionare in get cioè che la chiamata semplice con diciamo le variabili passate dopo il punto di domanda se mi interessa un approfondimento su questo scrivetemelo ragazzi comunque normalmente potevamo fare prima il post adesso invece possiamo fare il get che è più semplice togliamo tutto il resto e anche un'altra novità è che possiamo dirgli se questo webbook può essere accessibile dall'esterno quindi da internet ovviamente con un reverse proxy sentato correttamente oppure solo dalla rete locale in questo caso noi lo lasciamo solo dalla rete locale quindi una volta che si verifica una chiamata verso questo webbook l'automazione andrebbe a fare un qualcosa questo è semplicemente per farvi vedere la nuova funzionalità webbook e il webbook è veramente molto potente ragazzi se non sapete come sfruttarli scrivetemelo sotto che vi do qualche esempio un esempio ad esempio su tutti avete un citofono che riesce a fare una chiamata a un qualsiasi url una volta che qualcuno ci clicca sopra a quel punto l'abbiamo automatizzato l'automassist tanto che oppure con le periferiche netatmo per esempio la welcome è possibile andare a chiamare dei webbook e quindi vado a chiamare direttamente il webbook di home assistant e passerà una serie di informazioni la welcome tra cui ad esempio la faccia che ha riconosciuto se è una persona se è un animale noi possiamo fare nei mila automazioni nel mentre con questa cosa qua quindi è una cosa molto importante questo è il secondo grosso novità della nuova release un'altra novità è la possibilità di in home assistant yellow non so se lo conoscete ma vi invito ad andare a vedere che cos'è di gestire diciamo i led è una scatolina di home assistant dedicata con già dentro un po' di cose che quindi è out of the box funzionante e c'ha ad esempio lo zgb il thread c'ha gli m2 slot insomma vi invito ad andare a vedere cos'è però diciamo è abbastanza minore come novità questa l'ultima invece degna di nota è quella riferita all'integrazione di appunto degli aspirapolveri dei robottini ok quindi Roborock a questo punto è possibile gestire tutti i robottini tramite appunto questa nuova integrazione che è disponibile da questa versione ok ragazzi io penso più o meno di avervi detto tutto quello che è la cosa più importante di questa versione di home assistant che vi ricordo che è quella di maggio se il video vi è piaciuto mi raccomando mettetemi un bel like noi continueremo comunque a fare questi video su ogni aggiornamento in maniera tale da insomma spero aiutare tutte le persone a scegliere prima di aggiornare la nuova versione se è diciamo utile aggiornarla o meno anche perché io vi ricordo che nel momento in cui esce nel momento in cui l'aggiornate subito state attenti perché è normalmente piena di bug infatti a livello di consiglio vi dico di rimanere almeno sempre indietro di una versione o meglio se dovete installare una versione che vi interessa installate l'ultima update che avviene all'incirca verso fine mese dove hanno fixato già tantissimi problemi che hanno riscontrato ovviamente con il rilascio di quella nuova quindi questo è un mio consiglio bene ragazzi mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati abbonatevi per vedere i video esclusivi tra cui uno degli ultimi è come integrare le periferiche ring tutte le periferiche ring con mqtt non assistant quindi andate assolutamente ad abbonarvi a domotica per tutti i plus che così ci aiutate ci date un contributo e noi cercheremo sempre di portare ovviamente contenuti grazie a questi contributi di qualità quindi io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo appuntamento ciao ragazzi grazie a tutti